oh no devo rifarmi tutto devo rifarmi tutto quanto e tra l'altro morendo ho sprecato tutte le fiale che avevo nel bagagliaio e si va beh che faccio corro ancora faccio tutto il giro non ho sbloccato una scorciatoia qualcosa baseball magari però se io giro di qua lui spara ancora oh sì oh sì oh sì io giro di qua però a lungo comunque è sì e no devo buttarmi giù niente non posso fare nient'altro che buttarmi giù giù se no no però devi andare giù bene curati e non si cura non so se devo battagli ogni volta i nemici o mi conviene di più correre vaffan bagno ok smetti di sparare una volta ne per la tua vita ce l'ho fatta ce l'ho fatto non ci sto credendo che ce l'ho fatta però io adesso sto tremando perché questo qua è un avversario che prima di ucciderlo ci vorrà molto tempo e perché gli tolgo troppo poco è quello il problema e devo andare avanti a a a front step aia però aia ma no telecamera però non vedo un cazzo vola giù vola giù pezzo di merda vola giù vola giù è andato è andato che culo però me l'ha lasciato l'oggetto lo vedo lo vedo vado a prenderlo se cado io puoi cadere anche tu stronzo stemma da cacciatore powder keg wotzy barlozzi se non fa un bel botto io la butto di sotto come erano i lari questi cacciatori io sono sicuro che chi ha più di vent'anni avrà dato un nome alla gatling gun tipo me e tutti i miei amici la chiamavamo la gigia no dai dimmi che si può usare non si può usare e adesso dove si va ah beh magari finalmente posso uccidere quello lì che bello qua madò che architettura complessa anche se mi dispiace averlo buttato di sotto avrei preferito combatterlo come si deve non è vero bugia sono contento adesso ti tiro un guanto di sfida che ti buca il cervello invece mi sta uccidendo lui è ma anche lui lascia fare che mamma mia che bastardo corvi corvi e mi sa che l'ho ucciso per puro culo da dietro te l'ho fatto di danno così è o certo che è importante come si usa è l'arma però è la lunghezza qua non è sicurato no dai se si curano anche i nemici alla fine non hanno più colpi merda è dura è è durissima o attenzione no 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 adesso non adesso non adesso preso mio dio non ho più le dita dei piedi perché li tenevo tutti in tensione e dai levati dalle balle una volta polvere di midollo osseo minchia che male ma non ci credo la c'era la scala per scendere cazzo e chi l'ha vista quella la fammi vedere cos'è la polvere di midollo osseo medium aggiuntivo che potenzia i proiettili di mercurio che bello che che bello aver trovato quell'oggetto quando non ho proiettili in questo momento ok mi servirebbe salire di livello ma di qua non c'è niente dove merda devo andare mamma mia ho mosso la telecamera cazzo ma anche l'altra volta era scesa così ah no perché io ero arrivato di là e io la ero già sceso e c'era un bel po di gente quindi io direi di parte di salvare quel poco di anime che che c'ho ma permesso cretino ecco lui c'ha le mie anime e me le ridai anche magari o le ha oddio di continuo a dire anime scusate sono e chi del sangue ma dai ma quella si stronzi eh grazie è diventato un ladder match dove sono christian e de joe quando servono posso salire o e e allora quanto traffico c'era aia o aia o una telecamera in sto gioco stavo per cadere ma mi sembra strano che io non possa fare niente parte che ho preso lo stemma magari era solo per quello è ma secondo me qualche altra strada c'è non lo so mi puzza un po la cosa io per non saper né leggere né scrivere e per non sapere quanti cali di frame ho appena avuto me ne torno al sogno se non mi ricordo male c'erano più vie comunque la porta che è ancora chiusa di qua si scendeva ed è di qua che siamo andati sì 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 quindi andiamo dritto che infarto cretino penso che i colpi sono pochi direi piuttosto di tirar fuori la torcia almeno conoscenza del folle che prima o poi mi piacerebbe usare non so se sta per arrivare un boss o no da questa parte qua però non posso andare avanti così io devo comprarmi degli psicofarmaci uuuh oh dash boom spezzato ginocchia aiaia aia 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 mai più scusa era per vedere se potevo interagirci che ne so scudo il legno colpo di scena ero convinto non ci fossero beh 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 un pezzo di cassa panca lasciamo perdere anzi fammelo togliere un dispositivo ne impedisce l'apertura c'è una leva c'è una leva ah è dall'altra parte no quindi mi sa che bisogna tornare in ah no aspetta 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 forse c'era un'altra via però qua andando giù magari non andando lì a sinistra ma andando su alla scala hai visto? eh grazie che mi hai indicato la via grazie mille cosa sento? cosa sento? niente subito così a bruciapelo ma proprio senza neanche pensarci a un tutto niente pronto? oddio santo io che pensavo di avere la pistola madò no i proiettili del culo non funzionano comunque è ufficiale che nonostante tutti i giochi dio santo addirittura wow oh grazie grazie dicevo è ufficiale nonostante tutti i giochi che hanno fatto non riescono a gestire le inquadrature con i nemici giganti e continuano a farli giganti perché ho chiuso? ah quanto è aperto qua aiaiaiaiaia stanno traslocando fatta oddio aspetta ah 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 ho fatto un fuoricampo ah ah t'ho schivato anche da per terra corvi dai ti prego non immischiatevi guardalo dai cosa mi droppi tu? ah fiale 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 si 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 così di prepotenza oh c'è un buco c'è un buco ah minchia pensavo andasse dentro e qui? minchia tanto cosa sarà mai successo qua che c'è un un piede oh mi stavo perdendo un oggetto un monocolo monocolo usato per osservare oggetti lontani eh no non posso proprio passare da questo cancello arrugginito è troppo forte per me mi serve un pokemon con taglio per sopassarlo il cielo ha dei colori bellissimi però aspetta un attimo non ci perdiamo oh mi il tempo stanno diventando questi i più pericolosi nemici frammento di pietra eh quasi quasi se riesco me la porto fino alla fine shhh pokemon mh mh vado a quanto alto si è ingazzato andiamo se riesco a farglielo porca troia no 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 scappa scappa eh sono morto mi sto buttando addosso di tutto e anche questo ah già che non gli fanno niente non gli fa niente il fuoco questo nemico è fighissimo e non quello di prima è proprio questo con la la palla incatenata è veramente figlio io spero che ci sia quell'arma lì che posso usare io perché è bellissima qua niente vado avanti si ritorna all'interno peccato mi stava piacendo un sacco la parte all'esterno oddio ho visto delle candele pensavo ah che schifo c'è ah ci sono di dei corpi ci sono dentro questi vasi oh mio dio ok mi sa che non ci sono i mimichi in questo gemma del sangue della tempra ok ah qua c'è una porta che teoricamente si potrebbe aprire che è proprio davanti a un baule comodo quindi niente mi sa che ci tocca tornare dove siamo scesi per salire si è tranquillizzato posso andare va bene di qua eccolo qui cancello solo un emblema speciale apre il cancello e come passo di qua no più che altro adesso dove vado c'è un oggetto lì anche me lo stavo perdendo uh ancora meglio c'erano altri bivi non mi ricordo questa qui è chiusa haha non so dove andare ciao 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 ciao